ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video un tutorial che faccio per i camperisti ma che può essere utile anche in altre situazioni perché in questo video vi farò vedere come avere una connessione un wifi a bordo del camper che può essere un wifi a bordo della barca un wifi in auto un wifi a casa senza fare l'allacciamento alla rete in che modo comprando un modem un router come quello che mi installano a casa con la rete fissa ma che funziona con una sim quindi si mette dentro una sim la stessa che usate nei cellulari con un piano che sia vantaggioso in base all'utilizzo che dovete fare vi farò vedere ad esempio nel video che ho preso una sim veri mobile non è un video sponsorizzato ma è quella che ho trovato a meno dove in questo pacchetto 150 giga che basta ne avanzano per guardare una telecamera in camper chiamate limitate sms limitati a 7 euro e 99 perché ho detto telecamera in camper perché l'installazione che andrò a fare mi servirà per mettere una telecamera all'interno del camper che userò principalmente per tenere sotto controllo il cane quando magari lo lasciamo in camper per andare in spiaggia o magari per andare a cena insomma qualche volta capita di lasciarlo nel camper allora mi piacerebbe tenerlo sotto controllo è vero che in mobilità si usa molto la funzione hotspot del cellulare perché ormai abbiamo tutti le sim con un sacco di giga quando siamo via magari il telefono ci serve non possiamo lasciarlo come hotspot nel camper il camper è solo un esempio poi ripeto il funzionamento è lo stesso ovunque e allora si prende un modem con una sim si piazza lì dentro possiamo alimentarlo direttamente a 220 se siamo in piazzola o comunque abbiamo un impianto inverter eccetera ma vi farò vedere che possiamo collegarlo anche direttamente al 12 volt del camper dell'auto della barca di quello che sia ovviamente a casa tutta quella parte non vi interessa che modem ho scelto ho scelto un router della tp link un router da 69 euro che va benissimo lavora in 4g non è ancora 5g ma comunque già per vedere le telecamere o per fare altri usi che possono essere il collegamento anche di alexa se volete portarvela dietro per accendere le luci se volete guardare dei film con una chiavetta ce la fate tranquillamente è un modem da 300 megabit di connessione 150 mega in download anche se vedremo che con questa sim farà molto meno ma comunque basta e avanza perché quei 30 mega che riesce a scaricare basta ne avanzano un modem che non ho pagato tantissimo ho cercato un prodotto che andasse bene che fosse alla portata di tutti anche perché come me magari è un dispositivo che usate poco non è il non plus ultra del meglio che esiste in commercio perché altrimenti avrei preso probabilmente un router tenda o magari un router della fritz però non era il caso non mi andava di sprecare dei soldi inutilmente ho preso un prodotto che andasse bene vi faccio vedere tutto quanto troverete poi nella descrizione del video tutti i link per comprare tutto il materiale ovviamente per quanto riguarda la sim andate in un negozio di fiducia prendete quella che volete o se vi piace il pacchetto che ho preso io da 7 99 150 giga è un prodotto che potete ordinare anche online vi arriva direttamente a casa bando alle ciance andiamo avanti col video spacchettiamo il modem e vi faccio vedere un po tutto vi faccio vedere come collegarlo come si usa come si attiva c'è un'app di gestione per il modem vi faccio vedere come controllare i consumi della sim vi faccio vedere un po tutto ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale eccolo qua questo è il protagonista del video perché è il modem che ho scelto marchio tipi link che è assolutamente affidabile un sacco di dispositivi modello usato etl mr 6004 farei capirlo manualistica con a pagina 21 le istruzioni in italiano e in pratica secondo le istruzioni bisognerebbe mettere dentro la sim attendere che l'ed internet si accenda e noi siamo pronti per navigare adesso poi proviamo tutto per bene insieme alimentatore in dotazione ci soffermeremo poi su questo danno anche un cavo di rete e le antenne l'inserimento è per una nano sim quindi formato piccolo che vedremo dopo gli attacchi delle antenne alimentazione quattro porte di rete pulsante del wifi e pulsante vps per l'accoppiamento rapido dei dispositivi wifi qui sotto abbiamo già il nome del wireless e la password preimpostati se non andiamo a cambiarli accetta un ingresso a 9 volt 0,85 ampere antenne con questo profilo piatto queste due antenne sono entrambe per il 4g tp link insiste molto sul fatto che siano intercambiabili quindi che si possano smontare per potenziare il segnale in caso arrivi troppo debole quindi possiamo smontarle mettere un'antenna esterna per potenziare il segnale antenna esterna che tp link non vende ma che ha un attacco standard quindi all'esigenza potete trovarle con facilità parliamo della sim ora apro la sim per un semplice motivo perché le sim come questa hanno un pin vedete ad esempio qui è 4871 questo pin se all'accensione del telefono è richiesto va disattivato perché nei modem tipo questo o anche quando mettete per esempio le simi negli antifurti la richiesta del pin va sempre disattivata o sempre dietro nel furgone un telefonino vecchissimo che chiamo il nocchietto ma che tanto bene si presta a queste operazioni quindi sia per attivare le schede che per togliere il pin è fantastico lo accendo probabilmente farò tornare indietro nel passato i ricordi per molti di voi questo era già moderno era già colori allora in questo caso vedo che la sim è già attiva perché c'è campo e non mi ha richiesto il pin questo cosa vuol dire vuol dire che il pin qua segnato è presente ma non è abilitato vedete adesso arrivano i messaggi la tua offerta attiva ai 150 giga minuti sms limitati a 7 euro e 99 ecco quando mettiamo una sim con un piano dati in un dispositivo che non è uno smartphone conviene sempre attivare l'app dedicata per tenere sotto controllo i costi e tutto quanto vediamo se riesco a farlo senza mettere la sim nel mio telefono principale provo ora ad andare sullo store delle applicazioni per cercare l'app di veri mobile la installo vedete questo comando accedi senza credenziali vi dà il consenso di accedere tramite la rete dati di quella sim quindi quando mettete quella sim nel telefono tramite la connessione della sim l'app riconosce già il numero e tutto io non lo voglio fare voglio fare in modo di accedere da qualsiasi altro dispositivo al controllo di quella sim quindi creo un account su accedi o registrati registrati si ho la mia nuova sim veri ed è attiva bisogna barrare questa opzione bisogna inserire il numero perché manderanno un sms su questo telefono dopo aver inserito il numero clicchiamo continua dovrebbe arrivare un sms su questo telefono ok vedete un messaggio ricevuto visualizza c'è qui un codice in questo caso che vado a inserire nell'app clicco verifica inserisci il tuo indirizzo email con cui vuoi registrarti su veri mettiamo il nostro indirizzo e creiamo una password che deve avere da 8 a 20 caratteri maiuscole e minuscole è un numero clicchiamo continua ti abbiamo inviato una mail di conferma all'indirizzo arriva questa mail da veri mobile dove dobbiamo cliccare verifica la mia email clicchiamo il tasto ok messaggio la registrazione è andata a buon fine quindi abbiamo attivato l'applicazione da adesso in poi potrai usare la tua email per accedere all'app adesso possiamo fare l'accesso con l'email e la password che abbiamo creato in precedenza perfetto da qui abbiamo il controllo della nostra sim questa è la nostra sim prossimo rinnovo giga disponibili 149 90 di 150 abbiamo usato veramente poco e abbiamo già collegato la telecamera qualche volta comunque non saremo sempre lì a schiacciare per controllare la telecamera ma all'occorrenza la useremo senza problemi minuti e semessi limitati siamo a posto possiamo quindi spegnere questo telefono togliere la sim dividerla da tutta la serie di adattatori ci deve rimanere solo la più piccola questi teneteli perché possono sempre servire e la mettiamo nel nostro router in questo modo vedete il disegno con lo smusso a sinistra in questo modo la inseriamo dentro deve andare fino in fondo e fare clic voilà a questo punto dovremmo solo mettere l'alimentazione il modem si accende e aspettiamo che sia poi acceso anche il simbolo di internet questo è il simbolo di internet che vuol dire che ha fatto l'accesso questo è il simbolo del wifi qui abbiamo il simbolo di quanto prende di queste tacchette ne ha solo 3 praticamente il router in questo momento funziona già e ci potremmo già connettere a questo wifi per vedere come funziona se funziona se riusciamo ad accoppiarci insomma vediamo un attimo il wifi in questo caso si chiama tipi link 5 f 2 a vedete che lo troviamo qui come tipi link 5 f 2 a se prova a connettermi con la password riportata sotto che in realtà in questo caso è solo un pin il telefono non lo dà come rete connessa proviamo ad aprire un servizio di velocità per controllare a che velocità possiamo viaggiare apriamo speed test di okla vedete che mi segnala come rete wind perché la sim veri mobile è una rete a tutti gli effetti wind vediamo cosa riusciamo ad ottenere quindi abbiamo ottenuto un download di 18 8 con un upload di 459 è un ping di 49 millisecondi che non è neanche bassissimo vorrei configurare questa telecamera e z viz che avevo già recensito in un video vi lascio il link perché questa è una telecamera a 360 gradi che si monta a soffitto ruota in tutte le posizioni quindi mettendola al centro del camper riesco a controllare dappertutto sia eventuali intrusioni che soprattutto posso controllare il cane che quello per cui sto facendo tutto sto sistema inserisco nella telecamera una micro sd in modo che io possa anche registrare quello che succede e consultare le registrazioni sempre da smartphone trova la rete wifi del tp link metto la password ok dice configurazione completata quindi la telecamera non ha avuto nessun problema a collegarsi al wifi del nostro router 4g ok quindi ora la telecamera è regolarmente connessa vado a scollegare anche il wifi e continuo ad usare il 4g della mia rete team in modo da simulare proprio la reale connessione e velocità di collegamento che potrei avere in giro quindi vado a beccarmi la mia telecamera c6 perfetto vedo correttamente la telecamera che posso anche mettere in orizzontale questa telecamera è motorizzata quindi posso anche sfruttare i comandi di rotazione senza problemi quindi direi che la connessione è assolutamente riuscita se volete approfondire la configurazione del router e magari volete cambiare password eccetera bisogna scaricare un'app della tp link che si chiama tether questa qui con la casetta io l'ho già usata per altri dispositivi quindi ho già un app con un account attivato posso aggiungere un dispositivo che ad esempio può essere un router 3g 4g mi devo per forza connettere al wifi tp link altrimenti l'app non riesce a entrare nella configurazione sono connesso quindi l'app cercherà il router vedete che lo trova come tl mr 64 che esattamente il nostro modello e lo seleziono qui bisogna creare una password di accesso al router crea da questo momento in poi si potrà entrare in configurazione solo con questa password che abbiamo appena inserito vedete che prende mi dà tutte le impostazioni delle di quello che ha preso in automatico dalla sim quindi profilo wind apn statico apn internet punto wind andiamo avanti qui possiamo eventualmente cambiare le impostazioni del wifi quindi il nome rete la password io adesso lascio quelli di default applica abbiamo confermato quindi tutte le impostazioni che erano proprio quattro cavolate qui abbiamo lo stato del wifi dice che ci sono due client connessi e qui ad esempio abbiamo la comodità di avere il monitoraggio dei dati che abbiamo utilizzato anche direttamente dentro questa applicazione del router quindi dice che in questo caso abbiamo usato da quando abbiamo attivato 53,937 megabyte siccome abbiamo un traffico limitato possiamo anche attivare il limite di utilizzo lo mettiamo in gigabyte e impostiamo i nostri 150 gigabyte quindi totale su 150 gigabyte abbiamo usato 53 mega che è comunque molto molto poco 53 megabyte sono il 5 per cento di un giga ok perché un giga sono mille mega avviso l'utilizzo al 90 per cento va bene abbiamo il controllo anche senza attivare l'app della sim che abbiamo acquistato ci dà uno stato di connessione su rete mobile non attiviamo roaming perché siamo in italia modalità di rete 4g impostazioni che era profilo qua non dobbiamo toccare nulla però questa è una funzionalità comoda per tenere sotto controllo router ovviamente per far dialogare l'app con il router bisogna essere connessi esattamente al wifi del router ora fino a qua cosa abbiamo fatto abbiamo comprato un router ci abbiamo messo dentro una sim e siamo pronti a navigare sia via cavo che via wifi con questo dispositivo avete visto che l'installazione è proprio semplicissima alla portata di chiunque ora per l'utilizzo che ne voglio fare io su un camper il passaggio successivo è riuscire ad alimentare il router e anche le telecamere non con una spina a 220 volte perché magari non siamo sempre connessi in piazzola magari non abbiamo un inverter magari non abbiamo una power station dietro e allora dobbiamo usare il 12 volte del camper prima vi faccio vedere i dispositivi che possono servire per sfruttare 12 volte poi faremo anche delle misurazioni dei test per capire i reali consumi e che autonomia possiamo avere metto un attimo da parte il modem perché vi faccio vedere che ad esempio la telecamera che devo installare io ha una porta usb quindi senza stare a impazzire senza stare a comprare cose super complicate vi faccio vedere che ad esempio ho comprato questo dispositivo che è comodissimo perché è un alimentatore un convertitore da 12 volt a due usb collegandoci al 12 volte del camper in un punto qualsiasi in un camper ovunque avete luci lucine lucette attacchi a 12 se è riuscito a trovare un punto di alimentazione collegate direttamente il meno il negativo e il più il positivo in questo modo avete due uscite usb da 3 ampere che io posso usare tranquillamente per alimentare la mia telecamera me ne avanza poi ancora una se magari ne devo mettere due o potete anche usarla tranquillamente come porta di ricarica cellulare ad esempio in dotazione danno anche un cacciavite addirittura che serve per avere una connessione amovibile la parte che riceve alimentazione è sempre questa col maschio collegheremo il meno che sono segnati qui vedete meno e più il meno e il più in questo connettore apriamo un po i morsetti mettiamo direttamente dentro il meno e il più e dall'altra parte attaccheremo un pezzo di filo rosso e nero in modo da avere una connessione che all'occorrenza può essere staccata in questo modo ora il fatto che vediate il rosso che non va in linea con rosso non vuol dire niente l'importante che rispettate il più e il meno con il rosso e nero come sono segnati sui morsetti e questi saranno i cavi che vanno a 12 volte del camper la telecamera l'abbiamo risolta ora c'è il problema del router che anch'esso sarebbe comodo alimentarlo direttamente con una tensione a 12 volte del camper ma in questo caso l'alimentatore esce a 9 volt non è da escludere che un 12 volte in ingresso non danneggi il router per evitare problemi è meglio alimentarlo con la tensione corretta per fortuna il jack di alimentazione è standard quindi usiamo anche qui lo stesso tipo di connettore che abbiamo usato prima vedete che entra perfettamente e vedrete che poi funziona correttamente questo per non tagliare il cavo originale del caricatore che è un peccato perché perderemo la garanzia quindi anche qui stessa cosa prendiamo il filo rosso che il positivo e il filo nero che il negativo e li mettiamo seguendo le indicazioni sulla morsettiera più e meno quindi lo speleamo un pochino mettiamo prima il più rosso sempre col cacciavite di prima anche ste cinesate servono poi colleghiamo il meno in questo modo abbiamo il connettore da mettere sul router un'alternativa a questo connettore che magari esteticamente non è il massimo e quest'altro tipo di connettore questo rimane praticamente come l'originale ha anche questa retina in uscita per non far piegare il cavo l'unico neo è che questo connettore va saldato all'interno dove il filo positivo va su questo pin e dove il filo negativo va su questa letta quindi una volta saldato rimane un po più carino esteticamente funzionano allo stesso modo è una questione di gusti troverete insieme a tutto il resto anche di questi il link in descrizione ora cosa manca manca un dispositivo che trasformi il 12 volte del camper in un 9 volt quindi il cavo andrà a sua volta collegato ad un altro dispositivo ve ne faccio vedere un paio così scegliete poi quello che vi ispira di più o che ritenete più pratico da montare questo è un dispositivo molto comodo perché è un regolatore di tensione dove c'è un in più e in meno in ingresso e out più e auto meno in ingresso ma questo richiede un minimo di conoscenza e il saldatore perché i fili vanno saldati sulla scheda ok ottenuto un risultato del genere quindi saldando più e meno out in uscita al connettore più e meno in ingresso adesso l'alimento e vi faccio vedere come funziona questo gioiellino prendo il mio bellissimo alimentatore da banco vedete che già impostato a 12 volt ora disattivo un attimo l'uscita collego per il momento solo il dispositivo regolatore perché questo dispositivo tramite questa vitina permetterà di fare una regolazione della tensione di uscita ovviamente senza collegarlo al router per non danneggiarlo poi non avendo un display non avendo nulla come faccio sapere di avere 9 volt gli collego in uscita un multimetro e se non sapete come si usa multimetro avevo fatto un video anche per imparare ad usare insomma al tester e multimetro questi dispositivi qua mettiamo negativo che tocca è il positivo dentro jack possiamo accendere l'uscita dell'alimentatore vedete che in questo caso sta uscendo sul connettore 1143 per noi è troppo perché noi abbiamo bisogno di 9 volt quindi iniziamo a girare questa vitina vedete che la tensione scende è scesa troppo risaliamo la portiamo a 9059 non è importante essere così precisi l'importante è stare tra i 9 i 9 3 diciamo quindi in questo modo abbiamo regolato il nostro dispositivo per far uscire i 9 volt spegniamo di nuovo l'uscita anzi spegniamo tutto l'alimentatore adesso possiamo collegare tutto perché possiamo collegare il negativo del nostro schedino e del dispositivo che ci dà le usb a 5 volt anche i positivi insieme e li alimentiamo entrambi a 12 volt accendiamo l'alimentatore lui va direttamente a 12 volt alimenta 9 router che si sta avviando e tra un po' vedete che si è già accesa si accenderà anche la telecamera il router intanto è attivo si è acceso il simbolino il wifi internet è tutto ok e proviamo a interrogare la telecamera chiamiamo la nostra c6 ok telecamera che è connessa sta inquadrando perfettamente e stiamo assorbendo tra gli 04 e gli 05 ampere quanto durerebbe la batteria con un modem e una telecamera accesa ovviamente un calcolo ideale con una tensione di 12 volt una batteria da 100 ampere vuol dire che 100 ampere ora diviso per mezzo ampere che noi stiamo consumando vorrebbe dire che questa batteria durerebbe idealmente 200 ore in questo calcolo esiste un dato importante che è il coefficiente di pukert di pukert di p di pukert che idealmente si mette a 1 ma questo valore si ottiene con la capacità di scarica della batteria è un altro dato comunque è tutto un calcolo che non sto a farvi diciamo nella condizione ideale lo lasciamo a 1 dipende poi dalla profondità di scarica perché 100 ampere ora a 0 5 ampere durerebbero 200 ore allo 0 per cento profondità di scarica totale ipotizziamo di avere una profondità di scarica dell'ottanta per cento vuol dire che noi di quei 100 per ora ne abbiamo solo più 80 che moltiplicato due perché noi assorbiamo solo mezzo ampere diventano 160 160 diviso 24 che sono le ore in un giorno diciamo che scaricando una batteria carica da 100 ampere fino al 20 per cento noi abbiamo sei giorni di autonomia con un modem una telecamera e i due schiedini da alimentare questo solo un calcolo teorico il nocciolo della questione e che consumano relativamente poco di qua dentro dove ho tutti i miei un baradam elettrici modem che in linea prende esattamente come in casa due tacche su tre ho provato anche la velocità di download e tutto è sempre uguale quindi potrebbe anche essere che questa sim veri mobile non è così particolarmente prestante nel mio paese farò altri test in giro per l'italia comunque modem che rimane là dentro acceso in questo caso solo quando sono collegato al 220 ho installato provvisoriamente la telecamera sfruttando una vite dell'oblò non volevo fare buchi in giro per il camper sto testando la posizione l'ho collegata provvisoriamente a delle porte usb che ho qua sul camper però potremmo già vedere che risultato otteniamo riusciamo a vedere a 360 gradi piazzandolo diciamo a metà della cellula del camper vedete fa un giro fino di qua posso scendere alzare torno indietro dall'altra parte posso rifare quindi tutto il giro vedo correttamente tutto il pavimento tutta questa zona qua dove sta di solito il cane cane che tende a salire sul tavolo e sulla dinetto così posso controllarlo anche in questa zona dove sono dovuto io e ho in questo modo un controllo completo video arrivato alla fine spero di essere stato abbastanza chiaro nei collegamenti e di aver proposto una soluzione semplice alla portata di tutti perché tanti mi chiedono ma come faccio avere wifi in camper tu che pratichi che fai queste robe magari se mi spieghi ho cercato di fare una cosa da spiegare a tutti è abbastanza semplice poi magari la parte dei collegamenti elettrici se dovete alimentarlo direttamente a 12 normalmente i camperisti sono già un po pratici di queste cose no però se non siete proprio pratici magari vi fate dare una mano da qualcuno basta semplicemente trovare i due fili del 12 volt io ad esempio il modem l'ho piazzato dentro l'armadio dove ho il centralino il quadro elettico e tutto quanto dove ho una ciabatta con le prese perché io non vado mai in libera sono sempre in piazzola sono sempre collegato al 220 quindi non non era necessario fare questo tipo di lavoro però vi ho fatto vedere cosa bisogna comprare e cosa si può fare per essere indipendenti anche completamente sconnessi dalla rete se il video vi è piaciuto un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale troverete nel mio canale una playlist con un sacco di tipologie di video cerco di portare a tutti un po delle mie passioni delle mie competenze quindi vi ringrazio ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massi dattoli ciao 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 ciao